Questa mattina abbiamo presentato al territorio, al Consiglio Comunale, alle organizzazioni sindacali, datoriali e agli enti interessati il piano di azione che presenteremo domani, 10 gennaio, al Ministero del Lavoro, nell'ambito della misura del PNRR per l'eliminazione degli insediamenti informali e in contrasto al caporalato. I nostri piani di azione si muovono lungo tre direttrici, quello dell'abitare, del trasporto e della qualificazione del lavoro. Siamo convinti che le nostre proposte troveranno gradimento da parte del Ministero. Siamo molto fiduciosi grazie anche al supporto tecnico avuto dal Dipartimento di Architettura del Politecnico di Bari.